ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco alimsis mab xiemce research sl ultimo aggiornamento 17 novembre 2021 cosa alimsis confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere alimsis durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza e elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa alimsis alimsis è un farmaco a base del principio attivo bevacizumab appartenente alla categoria degli antineoplastici anticorpi monoclonali e nello specifico anticorpi monoclonali è commercializzato in italia dall'azienda mab xiemce research sl alimsis può essere prescritto con ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile confezioni alimsis 25 mg barra ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 16 ml alimsis 25 mg barra ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 4 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare mab xiemce research sl ricetta osp medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile classe h principio attivo bevacizumab gruppo terapeutico antineoplastici anticorpi monoclonali forma farmaceutica soluzione uso interno indicazioni alimsis in associazione con chemioterapia a base di fluoro pirimidine è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma metastatico del colono del retto alimsis in associazione con paclitaxel è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico per ulteriori informazioni relative allo stato del recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano r2 fare riferimento al paragrafo 51 alimsis in associazione con capicitabina è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico per cui una terapia con altri regimi chemioterapici inclusi quelli a base di taxani o antracicline non è considerata appropriata pazienti che hanno ricevuto un trattamento adiuvante a base di taxani e antracicline nei 12 mesi precedenti non devono ricevere il trattamento con alimsis in associazione con capicitabina per ulteriori informazioni relative allo stato di r2 fare riferimento al paragrafo 51 alimsis in aggiunta chemioterapia a base di platino è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccolo le cellule non resecabile avanzato metastatico ricorrente con istologia a predominanza non squamo cellulare alimsis in associazione con erlotinib è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule non squamo cellulare avanzato non resecabile metastatico ricorrente con mutazioni attivanti del recettore del fattore di crescita epidermico eg for vedere paragrafo 51 alimsis in associazione con interferone alfa 2a è indicato per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma renale avanzato e barra o metastatico alimsis in associazione con carboplatino epacritaxel è indicato per il trattamento di prima linea del carcinoma ovarico epiteliale del carcinoma alle tube di falloppio o del carcinoma peritoneale primario in stadio avanzato stadio ii b ii c ii v secondo la federazione internazionale di ginecologia e ostetricia figo in pazienti adulte vedere paragrafo 51 alimsis in associazione con carboplatino e gencetabino con carboplatino epacritaxel è indicato per il trattamento di pazienti adulti con prima recidiva di carcinoma ovarico epiteliale carcinoma alle tube di falloppio o carcinoma peritoneale primario platino sensibili che non hanno ricevuto una precedente terapia con vivacinzumab o altri inibitori del fattore di crescita dell'endotelio vascolare vegf o altri agenti mirati al recettore vegf alimsis in associazione con topotecan o doxorubicina liposumiale pegilata è indicato per il trattamento di pazienti adulti con recidiva di carcinoma ovarico epiteliale carcinoma alle tube di falloppio o carcinoma peritoneale primario platino resistenti che hanno ricevuto non più di due precedenti regimi chemioterapici e che non hanno ricevuto una precedente terapia con vivacinzumab o altri inibitori di vegf o altri agenti mirati al recettore vegf vedere paragrafo 51 alimsis in associazione con paclitaxel e cisplatino in alternativa con paclitaxel e topotecan in pazienti che non possono essere sottoposti a terapia a base di platino è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma della cervice persistente ricorrente o metastatico vedere paragrafo 51 posologia alimsis deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nell'impiego di medicinali antineoplastici posologia carcinoma metastatico del colono del retto mcrc la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa e di 5 mg barra kg o 10 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni due settimane oppure 7,5 mg barra kg o 15 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni tre settimane si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile carcinoma mammario metastatico mbc la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa e di 10 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni due settimane oppure 15 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni tre settimane si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile carcinoma polmonare non ha piccole cellule nsc lc trattamento di prima linea del nsc lc non squamo cellulare in associazione con chemioterapia a base di platino alimsis e somministrato in aggiunta chemioterapia a base di platino per un massimo di 6 cicli di trattamento seguiti da rimsis in monoterapia fino alla progressione della malattia la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa e di 7,5 mg barra kg oppure 15 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni tre settimane il beneficio clinico in pazienti con nsc lc è stato dimostrato sia la dose di 7,5 mg barra kg sia di 15 mg barra kg vedere paragrafo 5 1 si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile trattamento di prima linea del nsc lc non squamo cellulare con mutazioni attivanti dell'eggf in associazione con erlotinib il test per la mutazione dell'eggf deve essere effettuato prima di iniziare il trattamento con l'associazione alimsis erlotinib è importante che sia scelta una metodologia ben validata e robusta per evitare la determinazione di falsi negativi o falsi positivi la dose raccomandata di alimsis utilizzato in associazione con erlotinib è di 15 mg barra kg di peso corporeo somministrati una volta ogni tre settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di proseguire il trattamento con alimsis in associazione con erlotinib fino alla progressione della malattia per la posologia e la modalità di somministrazione di erlotinib vedere le informazioni prescrittive integrali di erlotinib carcinoma renale avanzato e barra o metastatico mrcc la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa è di 10 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni due settimane si raccomanda di proseguire il trattamento fino alla progressione della malattia o finché non compare tossicità inaccettabile carcinoma ovarico epiteliale delle tube di falloppio e peritoneale primario trattamento di prima linea alimsis è somministrato in aggiunta carboplatino epaclitaxel per un massimo di 6 cicli di trattamento seguiti dalla somministrazione di alimsis in monoterapia da proseguire fino alla progressione della malattia o per un massimo di 15 mesi o fino a che non compare tossicità inaccettabile qualsiasi si manifesti prima la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa è di 15 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni tre settimane trattamento della recidiva di malattia platino sensibile alimsis è somministrato in associazione a carboplatino e gencetabina per 6 cicli e fino ad un massimo di 10 cicli oppure in associazione a carboplatino epaclitaxel per 6 cicli e fino ad un massimo di 8 cicli seguiti dalla somministrazione di alimsis in monoterapia da proseguire fino alla progressione della malattia la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa è di 15 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni tre settimane trattamento della recidiva di malattia platino resistente alimsis è somministrato in associazione ad uno dei seguenti agenti topotecan somministrato ogni settimana o doxarubicina liposomiale pegilata la dose raccomandata di alimsis è di 10 mg barra kg di peso corporeo da somministrarsi una volta ogni due settimane mediante infusione endovinosa se alimsis è somministrato in associazione ad opotecan somministrato nei giorni 1 5 ogni tre settimane la dose raccomandata di alimsis è di 15 mg barra kg di peso corporeo da somministrarsi ogni tre settimane mediante infusione endovinosa si raccomanda di continuare il trattamento fino alla progressione della malattia o sviluppo di tossicità inaccettabile vedere paragrafo 5 1 studio m o 22 22 24 carcinoma della cerdice alimsis è somministrato in associazione con uno dei seguenti regimi chemioterapici paclitaxile cisplatino o paclitaxile topotecan la dose raccomandata di alimsis somministrata mediante infusione endovinosa è di 15 mg barra kg di peso corporeo una volta ogni tre settimane si raccomanda di proseguire il trattamento fino a progressione della malattia sottostante o comparsa di tossicità inaccettabile vedere paragrafo 51 particolari popolazioni di pazienti anziani nei pazienti di età e 65 anni non è necessario attuare alcuna correzione della dose compromissione renale la sicurezza e l'efficacia non sono state studiate nei pazienti affetti da compromissione renale vedere paragrafo 52 compromissione epatica la sicurezza e l'efficacia non sono state studiate nei pazienti affetti da compromissione epatica vedere paragrafo 52 popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di bevacizumab nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite i dati attualmente disponibili sono riportati nei paragrafi 4 8 5 1 e 5 2 ma non è possibile esprimere alcuna raccomandazione in merito alla posologia non vi è alcun uso rilevante di bevacizumab nella popolazione pediatrica per il trattamento dei carcinomi di colon retto mammella polmone ovaio tube di falloppio peritoneo cervice e rene modo di somministrazione alimsi se per uso e indovinoso la dose iniziale deve essere somministrata mediante un'infusione endovinosa di 90 minuti se la prima infusione è ben tollerata la seconda può essere somministrata in 60 minuti se l'infusione di 60 minuti e ben tollerata tutte le infusioni successive possono essere somministrate in 30 minuti non deve essere somministrata mediante infusione rapida e indovinosa o bolo endovinoso non sono raccomandate riduzioni della dose a seguito di reazioni avverse se indicato la terapia deve essere interrotta definitivamente o sospesa temporaneamente come illustrato nel paragrafo 4 4 precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6 6 le infusioni di alimsis non devono essere somministrate o miscelate con soluzioni di glucosio questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali ad eccezione di quelli menzionati nel paragrafo 6 6 controindicazioni ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli ecipienti elencati al paragrafo 6 1 ipersensibilità ai prodotti derivati da cellule ovariche di criceto cinese ch o o ad altri anticorpi ricombinanti umani umanizzati gravidanza vedere paragrafo 4 6 avvertenze speciali e precauzioni di impiego tracciabilità al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici il nome di numero di otto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati perforazioni e fistule gastrointestinali g i vedere vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetto degli agenti antineoplastici sulla farmacocinetica di bevacinzumab sulla base dei risultati ottenuti da analisi farmacocinetiche di popolazione non sono state osservate interazioni clinicamente rilevanti della chemioterapia concomitante sulla farmacocinetica vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere all'insis insieme ad altri farmaci come erbitux sutent victibix eccetera chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere all'insis durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere all'insis durante la gravidanza e l'allattamento donne potenzialmente fertili barra contraccezione le donne in età fertile devono usare misure contraccettive efficaci durante e fino a sei mesi dopo il trattamento gravidanza non vi sono dati di studi clinici vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari bevacizumab non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari tuttavia sonnolenza e sincope sono state segnalate con l'uso di bevacizumab vedere tabella 1 paragrafo 4 8 ai pazienti che manifestano sintomi che riguardano la loro visione o concentrazione o la loro capacità di reagire deve essere consigliato di non guidare veicoli e di non usare macchinari fino alla scomparsa dei sintomi effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza il profilo di sicurezza globale di bevacizumab si basa sui dati raccolti nel corso di studi clinici effettuati su oltre 5.700 pazienti affetti da diversi vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio la dose più alta valutata nell'uomo 20 mg barra chilogrammi di peso corporeo per via endovinosa ogni due settimane si è associata in molti pazienti a una grave forma di emicrania proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica agenti antineoplastici immunomodulatori agenti antineoplastici altri agenti antineoplastici anticorpi monoclonali codice atc l01 x c07 alim si se un medicinale biosimilare informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito web della proprietà farmacocinetiche sono disponibili i dati farmacocinetici relativi al bevacizumab raccolti in 10 studi clinici effettuati su pazienti con neoplasie solide in tutti gli studi clinici bevacizumab è stato somministrato in infusione dati preclinici di sicurezza in studi della durata massima di 26 settimane effettuati su scimmie cinomolgus è stata osservata una displasia epifisaria in animali giovani con cartilagini di accrescimento aperte a concentrazioni sieriche medie elenco degli eccipienti tre allosio di idrato sodio fosfato monobasico monoidrato di sodio fosfato polisorbato 20 acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di alim si sa base di bevacizumab sono avastin ai 20 o invasi zirabev fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato